Un incendio quasi certamente di origine dolosa e l'ennesimo furto nell'asilo del centro parrocchiale Sacra Famiglia sono il bilancio della scorsa notte per via Vecchia Piemonte Imperio Neglia. La zona legata a Castelvecchio mostra ogni giorno di più segni di degrado nonostante la presenza di poste, polizia postale, polizia municipale e fra poco anche dell'accesso alla nuova stazione. L'incendio della scorsa notte ha distrutto diversi scooter parcheggiati sotto un palazzo e danneggiato anche la soletta del primo piano dell'edificio. Il furto è stato invece messo a segno a poca distanza dal luogo dell'incendio nelle aule dell'asilo della Sacra Famiglia. Come già accaduto in passato, i gnoti hanno spaccato una finestra e una volta all'interno hanno rubato le monete della macchinetta del caffè. Si può verosimilmente affermare che siano maggiori i danni provocati che il bottino del furto. Su entrambi gli episodi sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.